ciao a tutti ragazzi io sono samuel e questo è il mio nuovo canale ebbene sì ho deciso appunto di aprire un canale o meglio togliere tutti i video che in questo canale c'erano perché erano video da bambino video di quando io giocavo al pc o comunque video diciamo poco poco maturi poco poco sensati oggi siamo qua appunto per annunciare appunto l'apertura di questo canale e questo canale andremo a pubblicare video cinematografici video informativi video comunque anche di esperienze personali qualcosa comunque per intrattenervi e per per passare un tempo insieme appunto se volete video in particolare potete anche benissimo chiedere perché tanto io sono esperto in elettronica quindi qualsiasi cosa voi volete che io porti chiedetemelo pure e tutto quello che diciamo il il tech questo sarà appunto un canale tech io oggi sono appunto qua per annunciare appunto l'apertura di questo canale sono davvero molto contento di poter annunciare appunto questa nuova apertura troveremo un nome il nome poi lo visualizzerete perché il video sarà già pubblicato adesso provvisoriamente io sto registrando con la mia videocamera attuale a canon con obiettivo fisso ma a breve a tra pochi mesi io avrò in possesso appunto una sony sony alfa sony alfa 2 sony alfa 3 adesso vediamo un po' questo perché perché voglio appunto intraprendere questi video cinematografici e per farli mi serve un po' di attrezzatura che prenderò nel corso degli anni oggi questo video appunto era molto breve diciamo introduttivo qualcosa che comunque vi faccia capire che appunto sono cambiato parte che si vede sono cresciuto non so più come nei video facevo tante cavolate mi scuso magari con alcuni di voi per appunto le mie le mie stronzate che spesso avrò detto anche delle stronzate niente detto questo questo nuovo canale spero che questo canale vi vi piaccia chi era già iscritto probabilmente vedrà questi questo video introduttivo questo video questo primo video dopo tanti anni e dove appunto ci metto la faccia io spero che intraprendere questo questo percorso comunque anche su youtube sia anche un percorso di miglioramento anche da parte mia nell'esprimermi nel mettermi in gioco anche perché faccio anche fatica a guardare nell'obiettivo anche se è la prima cosa che si dovrebbe fare e niente spero che appunto apprezzerete tutto diciamo questo impegno che ci sto mettendo e io vi saluto ci vediamo nei prossimi video che farò rimanete aggiornati con la campanella attiva e tutto quello che c'è appunto da avere commentate se anche sotto questo video se volete fare due pareri o giusto anche per chiedermi come sto perché probabilmente anche voi che siete già iscritti non mi vedrete non mi avete visto per anni un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima vi saluto a tutti Iscriviti al canale